Algo, per allegrare la cura di Casetti, un piastro totale, non viene messo, anche perché erano molto stanti trovati dall'idea di sempre che ha precedenti. Non molti anni prima, 25 anni prima, non lui, ma non Cerdinando di Borbone, ma Carlo di Borbone, aveva rivolto lo stesso invito alla corte napoletana, venite a vivere lungo la reggia, per arrivare alla reggia di Portici, in quel miniglio. Voi siete napoletani, per cui la casa del senso. Lasciava Napoli e si trasfercoglie l'invito del tempo. La propria giornata è stata fatta un'unità ad accogliere il suo servizio e il suo servizio alla reggia. La cucina è stata fatta un'unità di Borbone. Quattro appartamento sono molto molto più profonda. La cucina è stata fatta una stessa del centro. No Sì Sì Grazie a tutti.